Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Cosa è successo ad Alessia Marcuzzi? Il ricordo al festival bar è tra i peggiori della sua carriera, non era mai stata cacciata dal palco così. Tra i volti più amati della televisione italiana spicca senza ombra di dubbio anche quello di Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana vanta all'attivo una carriera unica nel suo genere, fatta di tantissimi successi che l'hanno resa una vera icona a livello nazionale. Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, negli anni la Marcuzzi ha messo in piedi un curriculum che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso settore. Il merito è non soltanto della sua incredibile bellezza ma anche del talento che ha dimostrato di avere, sia nella conduzione che per la recitazione. Oggi tutti conoscono Alessia Marcuzzi non soltanto per la sua popolarità come personaggio pubblico ma anche per i tantissimi programmi televisivi che l'hanno vista al timone. Tra questi è impossibile non ricordare il Festival Bar, l'amatissimo show tutto musicale che ha fatto sognare intere generazioni. Proprio durante la sua esperienza al Festival Bar, la Marcuzzi ha vissuto dei momenti davvero difficili da dimenticare. Ma che cosa è successo? Alessia Marcuzzi, quel brutto ricordo del Festival Bar Quello della Marcuzzi è stato uno dei volti conici nella storia del Festival Bar Insieme a Fiorello, la conduttrice romana ha presentato i maggiori artisti del paese, insieme a tantissime star di fama internazionale Anni fa sul palco del Festival Bar è salita proprio lei, Mariah Carey Per l'esibizione sono accorsi a Piazza del Plebiscito, Napoli, migliaia e migliaia di fan, che non vedevano l'ora di assistere all'imperdibile performance dell'artista americana Nel corso dell'esibizione, però, è successo qualcosa di impensabile Secondo quanto riportato da il sussidiario.net, l'esibizione di Mariah Carey è stata incredibile anche per la stessa conduttrice La Marcuzzi ha raccontato di quando, cercando di salire sul palco per presentare l'amatissima ospite, è stata bloccata dalla sicurezza Qualcuno del suo entourage cominciò a urlare Lei deve andare via meno ha detto la conduttrice meno parlando di me Non mi ha voluta sul palco insieme a lei, ha detto la Marcuzzi, amareggiata da quanto accaduto in passato L'episodio ha lasciato tutti senza parole ma non ha di certo messo a rischio la florida carriera della conduttrice Negli anni, infatti, la Marcuzzi ha collezionato un successo dopo l'altro, lavorando al timone di programmi amatissimi tra cui Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, Le Iene e tanti altri ancora Attrice dallo straordinario talento, la splendida Alessia è stata il volto di fiction come Carabinieri Così fan tutte, Camera Cafè e molte altre